La priorità del prossimo Parlamento europeo deve essere la pace. Ma a che servono le elezioni europee? Abbiamo intervistato tutti i principali leader ed esponenti politici per capire cosa farebbero in Europa e quali sono le loro idee per il nostro futuro. Per parlare di temi concreti, oltre la solita retorica. Per aiutarvi a rispondere alla domanda più scomoda che potranno farvi in questo periodo. Ma tu, per chi voti? Benvenuto Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Lei come parola, priorità per il prossimo Parlamento europeo, ha scelto pace. Brevemente, perché? Perché senza la pace e con la guerra tutte le priorità che abbiamo di fronte, i grandi problemi, la giustizia sociale, la giustizia ambientale, le giovani generazioni, sono precluse. Se la guerra continua ad offuscare il nostro orizzonte, a piegare l'economia in quella direzione, non c'è spazio per fare null'altro. E allora la pace non è solo necessaria perché pone fine alla tragedia della guerra, ai lutti, alle distruzioni, alle devastazioni. La pace è necessaria anche per costruire con efficacia una politica economica, una politica che guardi alle giovani generazioni, al loro diritto ad un futuro migliore rispetto a quello che le generazioni precedenti gli hanno consegnato. Il vostro slogan per l'Europa è il coraggio di osare. Ce lo spiega brevemente. Abbiamo bisogno di osare perché abbiamo bisogno di non rassegnarci. Perché l'alternativa a chi osa è quella della rassegnazione, è quella di chi pensa che non c'è alternativa, che non si può cambiare nulla, che tutto resterà sempre così com'è, che continueremo ad avere un mondo dritto, dritto, verso il baratro della crisi climatica, un mondo nel quale la diseguaglianza continua a crescere, condannando enormi masse alla povertà e alla marginalità e pochissimi a un futuro di grandi privilegi. Rassegnarsi significa rinunciare a cambiare. Allora abbiamo bisogno di osare con proposte e idee coraggiose all'altezza delle sfide che abbiamo davanti. E noi pensiamo che sia arrivato il momento di farlo. Senta, mettiamo che una persona che ci sta guardando, che ci sta ascoltando, deve votare per la mia volta o deve votare. Allora, perché dovrebbe votare il vostro partito e non altri? Perché Alleanza Verdi e Sinistra è una proposta nuova, coraggiosa e soprattutto è una proposta che in questi anni di legislatura in Italia, da quando è in Parlamento, ha fatto seguire i fatti alle parole. Noi siamo pacifisti e votiamo contro l'invio delle armi. Siamo per la giustizia ambientale e votiamo contro le scelte che ci riportano all'energia fossile. Siamo per un futuro che dia opportunità e speranze alla giovane generazione. Diciamo che ci vuole l'università gratuita, la formazione gratuita dall'asilo all'università. Potrei continuare arrivando ai temi sociali, al diritto al lavoro, al diritto a un lavoro sicuro, un diritto al lavoro non precario. Su tutte queste questioni abbiamo fatto ciò che avevamo promesso nei nostri comportamenti con continuità. Io penso che la politica ricostruisce una relazione di fiducia con chi l'ha persa. Con la fiducia si reimpara a fare ciò che dice. Senta, dato che questa intervista, insomma, questo format ha anche un po' il senso di spiegare il Parlamento europeo, come si compone, come si forma. Allora, vogliamo dire, perché anche il Parlamento europeo ha i suoi partiti, come succede in Italia, ha i suoi grandi gruppi, le famiglie europee, chiamiamole un po' come vogliamo. In quale partito confluiranno eventualmente i vostri europarlamentari e poi le chiedo anche quale maggioranza vorrebbe che si formasse per il prossimo Parlamento europeo? Così cerchiamo un po' di spiegarlo. Vedi, Alleanza Verde e Sinistra ha una peculiarità che qualcuno considera una debolezza, io la considero una grande forza, invece. I nostri parlamentari, le nostre parlamentari, una volta eletti ed elette, andranno qualcuno nel gruppo di The Left, della sinistra europea, qualcuno nel gruppo verde, European Green. Ci andranno però con alcune caratteristiche. Primo, la costruzione di una delegazione comune. Noi vogliamo tenere aperta, implementare, far crescere una relazione tra queste due famiglie europee perché pensiamo, e questa è la ragione fondativa di Alleanza Verde e Sinistra, che due delle più grandi questioni che abbiamo di fronte, quella della giustizia sociale, della giustizia ambientale, possano essere affrontate solo se vengono affrontate insieme, l'una con l'altra. Allora far discutere queste famiglie europee, metterne in relazione, costruire iniziative comuni, rappresenta, per quel che penso, una sfida che vale la pena di giocare nel prossimo Parlamento europeo. Lo faremo con questa consapevolezza. E lavoreremo per una maggioranza che innanzitutto isoli chi, i nazionalisti, cioè coloro che vogliono distruggere l'Europa, perché l'Europa delle nazioni non è l'Europa. Semplicemente non è, è un'Europa che non c'è, che isoli le destre estreme, che pure invece guadagnano terreno in molti paesi europei, perché le destre estreme ci portano indietro, sul piano dei diritti, delle libertà, dei dossier fondamentali. Esattamente. Quelli che non vogliono l'Europa, si candidano per le elezioni europee, ma si candidano per farla saltare l'Europa. Contro questo progetto, noi vogliamo costruire una maggioranza che vada in un'altra direzione. Certo. Passiamo un attimo ai temi. Ne abbiamo diversi di cui parlare. Cominciamo anzi parlando di uno di quelli che poi in realtà è il grande tema di queste elezioni europee, uno dei grandi temi, cioè la guerra. E in questo caso parliamo delle armi. Allora, io leggo qui il foglio. Ho letto quest'articolo. Discrive, poi chiaramente è una ricostruzione, perché ufficialmente ovviamente non si sa, che abbiamo speso in tutto, dall'inizio della guerra in Ucraina, 2,2 miliardi di euro. Che ne pensa? Ma intanto penso che questi numeri, queste cifre fanno impressione, no? Sono una massa enorme di risorse. Fanno impressione perché ti fanno subito pensare a tutte le volte in cui è impossibile trovare le risorse necessarie per garantire a tutti e a tutte il diritto alla salute, per garantire il diritto all'istruzione, per garantire tutto ciò che ha a che fare con la qualità della vita della maggioranza delle persone, delle persone normali. Ma poi c'è un'altra questione che va oltre la dimensione puramente finanziaria e ha a che fare con l'efficacia delle scelte che abbiamo messo in campo noi e gran parte della comunità internazionale. Dall'inizio di questa guerra, dell'invasione russa dell'Ucraina, si è scelta una sola strada, quella dell'escalation delle armi. Più armi, più armi, più armi. E si diceva, a chi come noi contestava questa linea, diceva no, non è questa la strada giusta, le armi sono necessarie perché costruiranno un equilibrio sul campo in grado di far partire la diplomazia e arrivare ad una pace giusta. Questo ci hanno detto. La verità è che ormai, dopo più di due anni, quasi tre anni, dall'inizio di questa aggressione, di questa guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, di anni sono arrivate un'infinità, come dimostrano anche questi numeri. Ma la diplomazia è scomparsa, la pace è stata cancellata dall'orizzonte, perfino dall'orizzonte del pensiero. E questo ci dice che quella scelta è stata una scelta sbagliata. Bisogna cambiare strada, bisogna rimettere in campo. L'Ue, secondo lei. Dovrebbe rapidamente costruire le condizioni, intanto con un suo protagonismo, perché l'Ue non c'è e questo è un altro grande problema. Io sono europeista perché voglio che ci sia un'Europa, ma se l'Europa non costruisce un proprio profilo, una capacità di iniziativa nel mondo terribile che abbiamo di fronte, l'Europa scompare, l'Europa scompare tra le vocazioni imperiali che via via sono rinate in questa epoca in cui dopo la fine dei blocchi, della guerra fredda, si annunciava una pace perpetua, sono rinate le vocazioni imperiali. L'Europa è schiacciata. L'Europa dovrebbe mettere insieme le grandi potenze mondiali a partire dal suo protagonismo per imporre una strada diplomatica che faccia uscire dalla tragedia della guerra, innanzitutto l'Ucraina aggredita, ma il mondo intero. Non con un esercito europeo comune. Anche. Io penso che sia necessario lavorare a una difesa comune. Sarebbe anche una forma di razionalizzazione della spesa. Noi oggi rincorriamo la spesa militare in modo folle, in modo del tutto irragionevole. Da un lato la Nato chiede il 2% del PIL in spesa militare. Vuol dire per il paese che abitiamo, per la nostra Italia, 13 miliardi di euro in più all'anno. Lo voglio dire chiaro. 13 miliardi di euro in più all'anno di spesa corrente. Cioè ogni anno non è un investimento una tantum. Pensate cosa potremmo fare con 13 miliardi a proposito delle nostre priorità. Mettere insieme le risorse dentro un modello di difesa europeo significa razionalizzare la spesa ma soprattutto significa dare all'Europa uno strumento per giocare un ruolo. Non solo quello militare. Certo serve una politica estera innanzitutto servirebbe una politica fiscale del lavoro economico servirebbero tante cose in più rispetto a quel che c'è. Ma su questo fronte io sono d'accordo perché penso che questo sia un tassello della costruzione di un'Europa di cui abbiamo bisogno. Senta avete deciso di candidare Ilaria Salis ma intanto ci spiega perché ricordiamo Ilaria Salis l'attivista italiana in questo momento detenuta speriamo ancora per poco in Ungheria in condizioni insomma disumane. Ciao una piccola precisazione quando abbiamo registrato questa intervista pochi giorni fa Ilaria Salis era ancora in carcere ora è agli arresti domiciliari a Budapest. Conosciamo la sua storia ha partecipato ad alcune proteste e per questo insomma poi c'è chiaramente una questione giudiziaria in un altro paese in corso ma voi avete deciso di candidarla. Le chiedo intanto perché? Perché abbiamo deciso di fare un atto concreto abbiamo messo a disposizione Alleanza Verdi Sinistra le nostre liste il collegio più importante quello del nord-ovest in cui Ilaria è capolista per una ragazza una nostra connazionale di 39 anni che ormai da oltre 15 mesi è precipitata in un buco nero quello di un carcere ungherese nel quale incarcerazione preventiva preventiva non le vengono riconosciuti i diritti fondamentali i suoi diritti umani fondamentali sono stati più volte calpestati l'abbiamo vista in catene nelle aule giudiziarie abbiamo saputo dal padre perché lei non può parlare della sua storia dentro le celle le carceri ungheresi in particolare nei primi mesi di prigionia vede calpestato il suo diritto alla difesa e l'aria ha detto in modo molto forte dal mio punto di vista non voglio fuggire dal processo voglio correre incontro ad un processo giusto è bene ricordare che un coimputato per le stesse accuse che le sono rivolte un coimputato italiano di Ilaria nel giorno in cui le venivano negati gli arresti domiciliari negati anche gli arresti domiciliari da un tribunale italiano a Milano è stato scarcerato e quel tribunale ha negato l'estradizione in Ungheria perché ha detto lì non sono garantiti i suoi diritti fondamentali e il governo come agito in questa storia? male male ha agito male perché trovo incredibile che per una vicenda come questa con quelle accuse in questa condizione una nostra connazionale sia ancora incarcerata in quella condizione ma quindi non è questa candidatura Meloni ha detto che rischiava di politicizzare la vicenda ma il governo su questa vicenda ha più volte invitato al silenzio ha detto ci vuole silenzio in queste cose bisogna fare agire la diplomazia non va politicizzata il silenzio c'è stato però è un silenzio che è durato oltre 13 mesi vorrei ricordare che Ilaria Salis è stata arrestata nel febbraio del 2023 le prime immagini la prima volta che l'abbiamo vista in catene si è aperta una discussione nel nostro paese sono della fine del gennaio del 2024 un anno quasi un anno di silenzio in quell'anno di silenzio non è accaduto nulla e sono passati altri mesi allora di fronte a questo silenzio forse è arrivato noi ne siamo convinti e convinte è il momento di fare qualcosa un atto concreto e voglio aggiungere su questo un elemento c'è una questione molto politica che riguarda Ilaria e che come Ilaria stessa ha ricordato a tutti e tutte noi riguarda anche tanti e tante altri cittadini italiani che sono rinchiusi incarcerati in condizioni simili riguarda la costituzione dell'Europa che vogliamo che Europa vogliamo io lo chiedo anche a chi ci segue io voglio un'Europa in cui i cittadini e le cittadine di ogni paese dell'Unione in ogni paese dell'Unione vedano rispettati i propri diritti in ugual misura e che quei diritti siano diritti espansivi non restrittivi più diritti non meno diritti io non voglio l'Europa di Orban io voglio un'Europa in cui la cultura del diritto sia garantita proprio questo le volevo chiedere c'è un problema di stato di diritto secondo lei nell'Unione Europea? sì c'è è evidentissimo che c'è ci sono paesi come l'Ungheria in cui i diritti delle minoranze sono calpestati in cui l'informazione non ha una funzione fondamentale per la democrazia come dovrebbe avere c'è quella di essere uno strumento critico libero nella sua forza nella sua capacità di informare i cittadini delle cittadine ci sono paesi in cui il rapporto tra la politica e la magistratura non è un rapporto fondato sulla piena separazione dei poteri ci sono paesi come l'Ungheria di Orban in cui lo stato di diritto e il diritto è messo in discussione e io penso che questo tema riguardi tutti e tutte noi anche chi ha la fortuna di vivere in paesi in cui la qualità della democrazia ha un tasso maggiore senta recentemente avete lanciato un'iniziativa per un piano per alzare i salari in dieci mosse parte quali sono vogliamo saperle tutti quanti ma al di là di questo comprende qualcosa che si possa fare in Europa abbiamo posto una questione che consideriamo decisiva cruciale innanzitutto per il nostro paese perché il nostro paese è l'unico paese d'Europa l'unico l'unico non uno dei nel quale negli ultimi trent'anni gli stipendi degli italiani e delle italiane cioè di chi si alza la mattina fatica a lavorare per costruire un futuro per sé per i propri figli sono andati addirittura indietro non è che non hanno seguito l'andamento dell'inflazione come accadeva un tempo quando c'era la scala mobile c'erano strumenti di protezione no sono andati indietro lo dimostrano gli studi oxi allora questa è un'emergenza sì lo è lo è e noi pensiamo che servano iniziative concrete abbiamo avanzato una serie di proposte alcune sono note il salario minimo legale che pure questo governo ha respinto senza senza batter ciglio poniamo una questione che riguarda il reddito minimo il reddito minimo in Europa a proposito di misure che possono essere costruite in Europa siamo convinti che sia come uno strumento in grado di garantire ad ogni cittadina ad ogni cittadina europea che vive una determinata condizione economico materiale uno strumento universale di sostegno al reddito sono strumenti che esistono in quasi tutti i paesi europei immaginare su questo la costruzione di standard europei che sul terreno del reddito quindi del sostegno del reddito del salario minimo ma per esempio anche della retribuzione noi da molti anni assistiamo ad un fenomeno di cui abbiamo discusso molte volte anche nel nostro paese quello del dumping salariare legato per esempio alle delocalizzazioni quante volte commentiamo la notizia di un'impresa che nel nostro paese funziona che ha pure profitti ma che a un certo punto chiude i battenti lascia tutti per strada cancella il loro futuro con un colpo di spugna e se ne va in un altro paese europeo non in un paese lontanissimo come si frena questa cosa si frena per esempio con una legislazione europea contro le delocalizzazioni contro il dumping salariale sarebbe uno strumento non direttamente orientato all'incremento degli stipendi ma indirettamente sì perché noi sappiamo quanto il dumping salariale legato alle delocalizzazioni abbia compresso i salari e gli stipendi anche in un paese come il nostro non c'è soltanto l'interesse un po' cinico di chi va in un paese in cui paga i lavoratori e i lavoratrici molto meno di quanto si pagano in Italia e già in Italia si pagano male ma c'è un effetto che poi torna anche sui nostri stipendi sugli stipendi europei in generale sono alcune delle misure possibili la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario per esempio è un altro strumento che andrebbe implementato a livello europeo è possibile farlo? sì è possibile con gli strumenti previsti una settimana corte europea per esempio perché no dove si è sperimentata la settimana corta o altre forme di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario si è scoperto per esempio che quelle sperimentazioni hanno come primo effetto aumentare la produttività perché? perché quando si lavora meglio in condizioni migliori con tempi migliori che liberano anche un po' di tempo di vita altro bene sempre più prezioso in particolare per le giovani generazioni che questa cosa l'hanno capita prima negli altri come accade spesso aumenta la produttività e aumenta anche la qualità del lavoro oltre che del salario della vita dei lavoratori e delle lavoratrici sono strumenti che messi assieme possono costruire che cosa? un'inversione di tendenza combattere la precarietà la Spagna con una riforma ha cancellato la selva di contratti precari che contraddistingueva il suo mercato del lavoro esattamente come contraddistingue il nostro mercato del lavoro si può andare nella stessa direzione io penso di sì si può fare è il momento di scegliere e di osare per farlo anche in Europa come dice il vostro slogan senta un altro tema io andando in giro ho visto dei manifesti vostri con le città devastate dal cambiamento climatico questo immagino sbaglio di Venezia sotto l'acqua che abbiamo visto ecco che bisogna fare per evitare che accada e penso che tutti quanti vorremmo evitarlo sul piano pratico però cioè a livello pratico l'Unione Europea che deve fare? intanto evitare che si costruisca una maggioranza fatta di climafreghisti come li chiamo io di negazionisti del cambiamento climatico è necessario mettere in capo politiche politiche di contrasto alla crisi climatica politiche di adattamento rispetto alla crisi climatica tutto il contrario di quello che si è fatto in questi anni dire basta al consumo di suolo per esempio in Europa è possibile sì è possibile costruire un fondo per la transizione la transizione verde della transizione giusta perché la transizione costa e i costi di quella transizione è come se paga noi proponiamo per esempio un fondo l'1% del PIL annuale dell'Europa per fare che cosa? per mettere in campo politiche che dal sistema dei trasporti dal biglietto climatico al modo con cui rendere efficienti sul piano energetico i nostri edifici non solo sviluppi quella direzione di marcia ma lo faccia dentro una dimensione di equità i costi della transizione vanno distribuiti e siccome noi sappiamo ed è il motivo per cui pensiamo che giustizia sociale e giustizia ambientale vadano l'una accanto all'altra sappiamo che la responsabilità della crisi climatica non l'abbiamo tutti nello stesso modo io e lei non abbiamo la stessa responsabilità nella crisi climatica che hanno grandi multinazionali che emettono gas climalteranti in grandi quantità nella nostra atmosfera sono diverse le responsabilità ma le conseguenze della crisi climatica anche quelle si scaricano in modo differente sulla popolazione non tutti subiscono nello stesso modo chi è che lì subisce di più le aree più fragili della società europea in questo caso ma potremmo a questo punto allargare alla dimensione mondiale questo problema allora da questo punto di vista occorre un grande piano che si misuri con questa dimensione di realtà non la rimuova non continui a rinviare è una cosa che non è rinviabile e che a forza di rinviarla avrà un unico effetto arrivare sempre in ritardo e far pagare i costi a chi non li deve pagare l'Europa ha fatto grandi cose su questo fronte il Green Deal europeo è stato diciamo uno dei settori su cui l'Europa ha costruito passi avanti più significativi oggi è stato un successo a metà è stato un successo a metà certo non è stato sufficiente ma è stato contrastato le cose sono state ridiscusse certamente le case Green e il non so ad esempio basti pensare alla vicenda della PAC e dei pesticidi esatto noi infatti pensiamo che da lì si debba ripartire che poi è una delle cose che ha causato la protesta dei trattori ci ricordiamo l'ha causata se posso dirlo dentro una specie di corto circolo perché per esempio noi pensiamo che la riforma della PAC sia una delle priorità che dobbiamo mettere al centro e che ha molto a che fare col cambiamento climatico pensiamo per esempio che la PAC debba cambiare radicalmente oggi la PAC è costruita così la grande maggioranza dei finanziamenti va alla grande industria agricola che è una parte minoritaria della filiera agricola i piccoli agricoltori non hanno quasi niente dal finanziamento della politica agricola europea che pure raccoglie una grande massa di risorse del bilancio europeo io penso che si debba invertire questo rapporto secondo penso che sui pesticidi si debba fare il contrario di ciò che si è fatto andare avanti con più decisione anche qui però redistribuendo i costi e i pesi attraverso una redistribuzione complessiva dei fondi che oggi la PAC dà in grande maggioranza alle grandi filiere potremmo continuare certo tutte queste misure però ci dicono una cosa o facciamo i conti con quello che sta accadendo intorno a noi o quei conti ci sbatteranno addosso abbiamo un altro pezzo del nostro slogan se l'Italia non cambia il clima il clima cambierà l'Italia vale per l'Europa c'è una domanda qua proprio su questo cioè allora perché questa urgenza non la percepiscono tutti quanti nello stesso modo cioè noi abbiamo delle fasce di popolazione anche molto giovane che sente questa urgenza questo problema del cambiamento climatico che chiede di intervenire e invece ci stanno tante persone la maggioranza della popolazione perché poi ce lo dobbiamo dire che non sente questa urgenza ma intanto perché come dicevo prima siamo pieni di clima freghisti di negazionisti c'è una sorta di guerra una guerra santa contro gli attivisti del clima contro le nuove generazioni che pongono con urgenza quasi con disperazione questa questione viviamo in un paese nel quale si è fatta una legge per inasprire le pene contro gli attivisti dell'ultima generazione contro chi interrompe il traffico un giorno per porre questo tema contro chi si mobilita li arrestiamo invece di porci con loro il problema i giovani e le giovani sentono l'urgenza di questa questione perché i giovani le giovani generazioni vivono nel futuro il futuro è la loro dimensione la loro dimensione naturale dunque ne sono angosciati guardano le potenzialità che il futuro offre ma anche agli incubi che gli restituisce li sbatte in faccia di fronte ad una crisi climatica sempre più più forte io penso che che cambiare la percezione generale sia una necessità perché se non cambia la percezione generale se non si intraprendono ora ora scelte concrete contro la crisi climatica sarà troppo tardi ce lo dicono tutti gli studi scientifici più autorevoli al mondo che cosa dobbiamo aspettare ancora è arrivato il momento di farlo senta invece parlando sempre di ambiente parliamo anche di energia allora quale politica energetica sostenete io penso che su questo fronte la transizione verso l'energia pulita l'energia rinnovabile verso una democrazia energetica sia anche qui l'urgenza e la necessità insieme che abbiamo di fronte continuiamo ad arrivare in ritardo questo problema riguarda l'Europa ma riguarda in particolare un paese come il nostro sempre all'ultimo posto sul terreno della ricerca dell'innovazione sempre più dipendente perfino da altri mercati nella componentistica perché ha rinunciato perché ha smesso di pensare che questo fosse il terreno su cui misurare parte anche della propria competitività su scala globale non solo su cui misurare il tasso di giustizia climatica del nostro lavoro e della nostra iniziativa anche legislativa le energie rinnovabili sono il futuro l'unico futuro possibile per stare dentro il grande tema del contrasto alla crisi climatica però allo stesso tempo sappiamo che le energie rinnovabili non bastano io qua ho segnato l'ultimo dato dell'agenzia internazionale per l'energia che dice che c'è stato un aumento del 50% rispetto al 2022 energia pulita in generale però siamo lontani dalla tabella di marcia della COP28 allora sapendo che in un certo senso molti dati ci dicono molti esperti ci dicono che le rinnovabili non bastano per puntare all'obiettivo di zero emissioni entro il 2050 qual è il mix energetico a cui si può arrivare anche per trovare una soluzione insomma in qualche modo ma intanto il fatto che siamo lontani non vuol dire che sia possibile arrivarci e anche qui ho l'impressione che molti di quelli che dicono che non sono sufficienti lo dicano perché in fondo hanno scelto di investire in un'altra direzione che è quella che conosciamo e cui effetti conosciamo quella legata al fossile che continua ad essere il centro delle politiche che buona parte dei governi mettono in campo a cominciare dal nostro che vorrebbe fare dell'Italia un hub del gas invece che investire nella direzione dello sviluppo delle energie rinnovabili significa lavorare sugli itera autorizzativi ma significa mobilitare il sistema della ricerca dovremmo per esempio fare un grande salto di qualità sul fronte di quelli che vengono chiamati accumuli cioè sui meccanismi che consentono di accumulare energia prodotta dalle rinnovabili nei picchi di produzione e poi dire distribuirla quando ce n'è più bisogno su questo fronte un mix di energie rinnovabili può consentirci di fare con quelle energie ciò che abbiamo bisogno di fare il punto è decidere se investire con tutte le nostre forze in quella direzione o continuare a dire che siccome forze non bastano allora continuiamo ad investire sul fossile poi certo come ogni transizione le transizioni hanno bisogno di un mix hanno bisogno nella fase di passaggio anche di altre energie nessuno di noi pensa o propone da un giorno all'altro di spegnere ogni altra fonte energetica si tratta però di decidere lo ripeto qual è la direzione che vogliamo prendere o la direzione è quella delle energie rinnovabili oppure è un'altra direzione le altre direzioni non mi sembrano funzionino troppo bene senta passiamo ad un altro tema invece il tema migranti allora io qui ho segnato l'ultimo dato di Frontex che dice nel 2023 sono entrati in Europa illegalmente circa 380.000 migranti di cui il 41% quindi 160.000 circa in Italia quindi praticamente quasi la metà allora come si risolve questa situazione questo è oggettivamente un problema questa è una grande questione strutturale per risolverla bisogna smettere di mettere in campo risposte emergenziali perché se continuiamo a dare una risposta emergenziale a ciò che è tutto tranne che un'emergenza ma una grande questione strutturale sbagliamo e siamo incapaci di offrire una risposta punto questa è la prima cosa con la quale dovremmo fare i conti secondo dovremmo decostruire una volta per tutte cancellare togliere di mezzo una narrazione un poco tossica quella per cui siamo di fronte a un'invasione 380 mila persone su una popolazione di oltre 400 milioni di persone è un'inezia vorrei segnalare che dall'inizio della guerra scatenata dalla Russia e l'Ucraina sono arrivate in Europa qualcosa come 4 milioni forse qualcosa in più di persone accolte giustamente perché in fuga da una guerra senza che questo determinasse alcune emergenze allora servono a politiche di accoglienza razionali e non emergenziali servono politiche solidali in Europa quindi bisogna cambiare il trattato di Dublino e bisognerebbe che i paesi che sono contrari a farlo avessero qualche problema anche nella gestione per esempio dei fondi a livello comunitario bisogna cambiare le politiche che questo paese il nostro e l'Europa più generalmente continua a mettere in campo nei confronti delle aree del mondo da cui le persone scappano queste politiche hanno a che fare col commercio delle armi che alimenta le guerre da cui le persone scappano hanno a che fare con il rapporto con le politiche energetiche perché se continuiamo ad andare in giro per il mondo a prenderci risorse naturali fonti energetiche alimentando la crisi climatica continueremo ad alimentare quella categoria sempre più grande di profughi che oggi va sotto il nome di profughi climatici di persone che scappano dalle loro terre perché sono diventate inabitabili anche grazie alle nostre scelte allora serve un mix di politica estera che agisca sulle ragioni che spingono le persone alla fuga di politica interna cioè politiche di accoglienza razionali ed efficaci di politiche interne sul piano della solidarietà della cosiddetta redistribuzione dei migranti che arrivano quando dico cambiamo il trattato di Dublino dico cambiamo un trattato che impone ai paesi di primo approdo cioè quelli dove arrivano per la prima volta le persone e l'Italia naturalmente diciamo per ragioni geografiche non per ragioni non perché siamo buonisti come direbbe Matteo Salvini ma perché siamo lì siamo lì in fondo all'Europa con una sorta di piattaforma in mezzo al mare è più esposta impone ai paesi di primo approdo gestire tutto il percorso legato all'accoglienza quindi impone meccanismi che si mettono di mezzo rispetto alla redistribuzione insomma un insieme di politiche che in modo strutturale affrontino questo fenomeno si può fare sì basterebbe deciderlo e invece l'immigrazione resta in particolare per una buona parte della politica della politica della destra italiana ed europea un terreno su cui fare speculazione elettorale sono imprenditori della paura e continuare a gestire in modo emergenziale questo fenomeno significa per loro alimentare un bacino su cui sviluppare consenso come? raccontando alle persone che hanno problemi che vivono le loro difficoltà che magari guadagnano troppo poco che hanno un futuro sempre più incerto che la colpa di quella condizione non è delle politiche sbagliate di chi non dà certezza ai diritti del lavoro di chi non distribuisce ricchezza di chi non chiede ai super ricchi di dare qualcosa in più per l'interesse generale no che la colpa di quella condizione è di chi è più debole ancora di loro dei più poveri delle poveri non è vero non è mai stato vero e cambiare queste politiche significa anche su questo fronte guadagnare un grado di civiltà più avanzato senta abbiamo finito l'ultima cosa che le chiedo andando alla conclusione allora c'è un po' la percezione in generale che votare non serve a nulla diciamo c'è una forte disaffezione l'abbiamo visto dai dati dell'affluenza in generale soprattutto magari le nuove generazioni che si trovano a votare per la prima volta poi alle elezioni europee potrebbero pensare che il weekend tra dell'8 e 9 giugno magari vanno da qualche altra parte e anziché andare ai seggi no e allora la domanda è a prescindere da votare voi o chi votare perché è importante andare a votare l'8 e 9 giugno ma perché come sempre tu puoi anche non occuparti della politica ma poi la politica si occupa di te c'è poco da fare poi qualcuno deciderà cose che riguardano riguarderanno la tua vita concretamente allora per esempio un giovane che legittimamente si chiede l'8 e 9 giugno magari fa caldo io preferisco andarmene al mare io direi se voti per noi dopo aver votato al mare ci puoi andare lo stesso magari evitando di pagare la metà di quello che hai guadagnato in un mese perché noi siamo la forza politica che propone che il mare torni ad essere un bene comune libero e che non sia tutto occupato da stabilimenti valneari privati in cui devi pagare una cifra impossibile per una giornata di libertà se voti per noi forse avrai una forza in grado di lavorare con più energia per la pace per la giustizia ambientale per la giustizia sociale cioè per le cose che hanno a che fare con la tua vita col tuo futuro e con un futuro diverso da quello che che altri hanno immaginato per te la cosa che dico a chi ha questo dubbio è ricordati sempre ricordati sempre che anche se non te ne occupi qualcuno si occuperà di te il giorno dopo l'ultima cosa in tre parole la sua idea di Europa un'Europa di pace un'Europa della solidarietà della giustizia sociale e dell'ambiente un'Europa della pace della solidarietà e del verde perfetto sono tre grazie rotogliani frutto gritsi fuite Grazie a tutti